Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Dragon Ball Xenoverse Andiamo avanti con la storia principale del gioco Per aprire un vario temporale, vabbè Devo fare, non dovete, o dobbiamo, devo, è sempre così eh Ok, allora, cos'è successo? Cosa ha cambiato stavolta? Era 7,74, ah ok Majin Buu Quello già è intermedio contro Piccolo ha cambiato, ok Cosa gli fa fare? Eh beh Addio, Trunks, addio Ok, poverini Cosa devono succedere? Ah, controlla anche questo Majin Buu, perfetto Divertente Oh mio dio Oh mio dio Ok Questo è un male Ok, stavolta la storia è cambiata veramente Non come al solito che è più forte degli altri No, semplicemente Majin Buu distrugge la terra, così Ok Quindi Eh, forse è più potente del solito, è più forte, è normale Ok 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 Che cazzo sta succedendo, semplicemente Un'altra modifica della storia Un'altra modifica della storia Ok 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 Un colpo diretto e potente Un pugno in faccia Un pugno in faccia, praticamente L'avevamo già capito Un pugno in faccia Un sacco di botte Va bene anche questo Un sacco di botte Oh Oh I dei non mentono mai Ok Ok Vai così Il vero nemico Piccolo ipnotizzato Ok Il vero nemico poi Ok 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 Di vita Questo è un po' un problema Piccolo Rompe Che Ah Demigra Grazie Fottuto Demigra L'ho colpito Assurdo Siete abbastanza in gamba Sì 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 Il sogno del cazzo Di buono che rompe i coglioni L'ho già sentita Sta storia ormai Beccati questo Uh colpito Proviamoci ancora BOOM Demigra Demigra Quella persona sconfiggerà Piccolo Uh demigra è già andato Perfetto Grazie Grazie Piccolo Torno in testa Sì sto colpendo Forte è morto Dai Ah cazzo Vabbè facciamo direttamente così E mandiamolo all'interno Ciao ciao piccolo Oh è tornato normale Oh finalmente Oh Majin Buu di già Cazzo Tadà Majin Buu è qui Riduci la salute di Super Buu a un certo valore Vai così Già mi aspetto Già me l'aspetto Quanta Ok Incazzato Va bene Tranquillo Porca puttana Veloce Vabbè Danno glielo facciamo Questa è la cosa migliore A saperti Vediamo Sì ce l'ho fatta No Oh Che cazzo succede Uh Ok Fusione Attenzione Fanno la versione merdosa o quella buona? Ok quella buona Perfetto Buona poi Come se fosse Talmente buona Va bene Iniziano le voccine stupide Aia Dove Ok Saiyan Goten Puoi far qualcosa Invece di far finta Di far qualcosa Sarebbe utile Cioè Stiamo parlando di Majin Buu Non di Piccolo Cristo piccolo Oh Ho paura che becco La torre No no Si sta parando Ancora peggio Beccati questo Buu Vediamo Nooo L'ha schivata all'ultimo Ultimo final flash No ne avrei ancora un altro a tirare Se riesco beccarlo Wow Non Uh ce l'ho fatta Dov'è andato? Uh l'abbiamo un po' colpito Ok Uh finalmente Gotenks fa qualcosa di utile Wow Va bene E' invisibile Era invisibile Che Ok Resisti L'assalto di Majin Buu No con piccolo Ok La fusione c'è usata Eh vabbè Oh amen Madonna i pugni Vai così Uh Ok E' tempo Massima potenza Andiamo a distruggere Lampo finale No si sta parando Bastardo Proviamoci di nuovo Vai così Easy Aia Bastardo Te l'ho fatta Majin Buu Te l'ho fatta questa Quella persona estragionare Alla pari di Majin Buu Anche noi stavamo Abbattendo I discorsi Cosa sei Non mi diverto Aia Buu inizia ad aver paura Wow L'attacco energetico di Buu Ha distrutto la terra Ok Ma Buu deve caricarsi Non sono riuscito a finirlo Uh gone Minchia Incazzato Si però Aveva 5 di vita Ok No Vabbè Vabbè E' magia Dai Andiamo Ehi Haha Wow Cosa Bastardo Ma bastardo Basta 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 Madonna Non ho più energia Ok Non l'ho beccato Che strano Wow Uh l'ho preso Mentre era in volo Vai così Proviamoci Ora che è a terra Bella così Wow Cazzino Ok Cosa succede Ci incazza Ancora di più Buu te la farà pagare Ok Oddio Demigra ancora Che due coglioni Quindi C'è già te lo sformato in Buu piccolo Cazzo E' già te lo sformato in Buu Ok Ok Non è più divertente Non è più divertente Ah Boh è tornata la forma originale Sì No non riusciremo mai a sconfiggiolo Aia Aia Gon Per favore Gon Gon Ci muoio Per favore Gon Please Help me Help me Gon Ho paura Mi ha Tolto tutta la vita In un istante In Un cazzo di istante Io lo lascio Lascio fare quello che vuole Faccio questo perché C'ho Un pugno di vita E' il massimo Quando ti No Non venire da me Non venire da me Uh Vai 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 Forse ce la facciamo Senza morire Neanche una volta Forse ce la facciamo Ok Vieni qua Vieni Vieni qua Buu E' l'unico modo ragazzi So che forse è ripetitivo E lo è Ma è l'unico modo Oh mio Dio Tirala subito Oh Oh mio dio Ce l'ho fatta Con un pugno di vita Oh mio dio Vai così E saliamo anche di livello Perfetto No Ancora Ai 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 Cos'è sta voce Ok Vai così Non ce l'abbiamo fatta Ok Oh ci sono Oh Ciao Buu Tranquillo eh No stai tranquillo Perfavore Conquista il futuro Grande battaglia Sconfiggi Majin Kid Buu Ma non era Kid Buu e basta Vabbè dai Lasciamo perdere Wow Goku Vegeta Fate qualcosa Grazie Madonna Uuuh Perfetto Ok Super Vegeta Vai così Gli arrivo vicino Mi scatena via Vai così Naa Mi sa che non l'ho beccato proprio Uh L'ho beccato invece Vai così Basta Buu Cioè lo spamma anche Osi spammarlo Vediamo Se non credo di farcela Però Eh infatti Vabbè Ci si prova No è volato via No Inizia a fare la scimmia Vai così Che strano tizio Chiamarlo tizio È anche un complimento Ma non lo becco Madonna Vabbè per fortuna è quasi morto Quante volte hai dovuto salvare la terra Eh molte Preparate a usare la sfera Genkidama Vai così Ah Ok Sfera Genkidama incoming Vai così Ok mi sa che lo dobbiamo proteggere Intanto Vegeta ci dai una mano Abitanti della terra Vai così Iniziamo Praticamente è l'ultimo combattimento Di sicuro poi ci sarà Demigra da uccidere Era ovvio però Aia Basta Basta Ho tutto kibu Trasfarmiamoci Non vi cagaranno mai Vai così Perché non sei mister Satango Perché non sei mister Satango Wow Gli abbiamo bloccato E' l'ultimo combattimento Ok Ok Concludi ce l'abbiamo fatta Perfetto Oh Forse siamo arrivati al filmato più emozionante di tutto Dragon Ball Hmm Ok Fai Cosa Chava Cosa 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 Ci scommetto le palle Che siamo noi ad aiutarlo Guarda che verso strano E infatti Che roba strana Addio Majin Bu Finalmente Ce l'abbiamo fatta Abbiamo finito anche La saga di Majin Bu Ce ne hai messo Ebbè Vai così Sì ma sembra che non ci sia nessuno in strada Cioè due macchinine ferme Non è proprio il massimo Anche Videl Attenzione L'inutilità del ministero Satan Non ci sono più Non ci sono più E al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti